Ecco, eccoci qua! Una piccola riflessione teologica che possa dare in qualche modo luce a questa nostra giornata, che almeno meteorologicamente parlando è un po' grigia. Gesù, durante la sua vita terrena e nel corso di tutto il suo ministero pubblico, non si è attribuito mai il titolo di Cristo, non si è presentato mai con l'appellativo di figlio di Dio, ma si è qualificato sempre e soltanto come figlio dell'uomo. Un'espressione che nel Vangelo di oggi troviamo ben due volte. Ma perché? Perché Gesù usava qualificarsi così, usava definirsi proprio con questa espressione, figlio dell'uomo. Il profeta Isaia, uno dei più grandi profeti della storia di Israele, in una delle sue molti visioni notturne, aveva intravisto un essere simile ad un figlio d'uomo, vale a dire un essere umano che un giorno sarebbe venuto nella gloria del cielo per instaurare il regno di Dio, un regno fatto di giustizia, di pace, di amore, un regno eterno, un regno intramontabile. Per cui Gesù, riprendendo questa immagine e applicando a sé questa espressione di figlio dell'uomo, intendeva sostanzialmente mettere in evidenza la sua profonda umanità. Intendeva mettere in evidenza che lui era un re messia, umanamente debole, e allo stesso tempo però anche molto potente. Insomma, intendeva mettere in evidenza che lui era un vero Dio e un vero uomo. Ma noi ci crediamo? Ci crediamo sul serio? Ecco, in questo giorno chiediamo al Signore di aiutarci a credere di più nella sua umanità e a credere di più nella nostra umanità, sapendo, come affermava il Concilio Vaticano II, che chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anche egli più uomo, diventa anche egli più umano. Ed oggi, in questa società sempre più fredda, individualista e narcisista, ce n'è un gran bisogno, ce n'è un bisogno che mai, un bisogno veramente essenziale. Facciamo dunque la nostra parte. Pace e bene.